Buongiorno, sono Ruggero Marzocca, bentornati sul mio sito, oggi vi presento un software Malwarebytes che andrebbe affiancato al vostro antivirus per fare periodicamente delle pulizie del computer evitando magari che vi rimangano quei software sicuramente indesiderati che durante la vostra navigazione in internet non fanno altro che riempirvi di pubblicità e quindi a volte anche impedire la visualizzazione dei contenuti dei siti che invece vorreste visitare. Sono partito scrivendo Malwarebytes, tutta un'unica parola, il nome del programma che stiamo per scaricare all'interno del motore di ricerca Google e poi accedo al sito ufficiale da cui sarà possibile scaricare la versione gratuita di questo software. In realtà ne esiste anche una versione a pagamento più completa ma come vedrete durante questo video la versione gratuite più che sufficiente per le pulizie, chiamiamoli così, che vogliamo fare all'interno del nostro computer. Il sito ufficiale è questo, leggete la scritta verde, it.malwarebytes.org come sempre vi raccomando di stare molto attenti a quale sito utilizzate per il download per non incappare magari in siti imitazione, chiamiamoli così, e che per qualche motivo potrebbero essere truffaldini. Quindi vado a cliccare il sito Malwarebytes anti-malware e vado subito alla sezione di download. Ecco, nella sezione download ho sia la versione gratuita che la versione premium che si può acquistare. In questo caso noi, come vi dicevo, sceglieremo la versione free, quindi anti-malware free, download gratuito. Andiamo a scaricarla, attualmente è la versione 2, quella più recente, poi quando vedrete il video dipenderà un po' da quanto tempo sarà passato. Ecco che il mio browser, Google Chrome in questo caso, sta scaricando il file di installazione. I file di installazione sono sempre dei file con estensione exe, sono file potenzialmente dannosi e quindi bisogna stare attenti a quale è il sito di origine da cui li stiamo scaricando. Quindi ribadisco durante la vostra riesecuzione di questa procedura sul vostro computer, controllate l'url che deve essere it.malwarebytes.org per essere sicuri di scaricare il file originale. A questo punto per fare l'installazione non mi resta che cliccare su questo tastino se sto usando Chrome. Se state usando altri browser, allora forse è meglio se chiudiamo il software di navigazione, accediamo attraverso la finestra computer, quindi doppio clic, alla mia cartella di download dove sia Chrome, sia Mozilla, sia Internet Explorer che sono un po' i browser più comunemente utilizzati, vanno a scaricare in automatico i file prelevati da Internet. Quindi questo è il file appena prelevato, facciamo doppio clic per avviare l'installazione, come vi dicevo un file exe può essere potenzialmente dannoso e quindi è normale che Windows ci mostri un avviso di sicurezza. Dobbiamo essere certi, come vi dicevo prima, di aver scaricato il file exe dal sito che vi avevo mostrato prima, altrimenti a questo punto annullate, cancellate tutto e tornate indietro. Dovete essere sicuri di aver scaricato il file dal sito che vi ho indicato io. Clicco esegui in questo caso perché so di aver scaricato quello esatto e rispondo sì alla domanda che appare immediatamente dopo. A questo punto sono all'interno dell'installazione del software, scelgo ovviamente la lingua italiana e clicco ok. Nella finestra immediatamente successiva c'è semplicemente un benvenuto dal software di installazione e posso cliccare avanti senza problemi. Accetto i termini della licenza ad uso, si tratta di un software gratuito quindi non ci sono licenze da pagare. Andiamo su avanti, ancora avanti. Qui la maggior parte di voi non avrà bisogno di modificare niente, ci viene chiesto quale debba essere la cartella di installazione del programma stesso e nella stragrande maggioranza dei casi andrà benissimo quella proposta dal software, quindi ancora avanti. Stesso discorso per il nome che il programma dovrà assumere all'interno del pulsante start. La maggior parte di voi non avranno bisogno di modificare le impostazioni in questa finestra. Andiamo quindi su avanti e anche la creazione di un'icona sul desktop tutto sommato la possiamo lasciare attivata in maniera tale che appaia l'icona del programma a fine installazione. Clicco ancora su avanti e clicco su installa. Come vedete il software è anche piuttosto serio diciamo così da questo punto di vista dell'installazione perché non ha proposto come ci è capitato magari di vedere in altri video in cui installavamo altri programmi non ha proposto altri programmini a corredo perché poi spesso è proprio in quella maniera che si installano quelle porcherie chiamiamole così che ora invece vogliamo andare a ripulire dal nostro computer a cancellare dal nostro computer. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è proprio questa ultima finestra quindi prima di cliccare fine ecco disattiviamo la prima delle due spunte non è niente di pericoloso ma è solo per evitare che si attivi la prova gratuita del software completo quindi di quello a pagamento e che poi magari dopo 15 30 giorni quando scadrà il periodo di prova cominci ad infastidirci chiedendoci il pagamento magari dell'installazione completa del software completo. Ci teniamo soltanto quindi l'antimalware gratuito togliamo la prima spunta e clicchiamo su fine. Il programma a questo punto sta già partendo con una prova di update del database di aggiornamento del database delle minacce quindi quasi sicuramente adesso visto che è appena installato sta scaricando le ultime versioni del database di minacce cioè della banca dati dei potenziali software dannosi scaricandoli gratuitamente e come vedete anche piuttosto velocemente dal sito di Malwarebytes e ora la prima cosa che andrebbe fatta sarebbe quella della scansione. Andiamo soltanto un attimo su settings su impostazioni per vedere se è possibile tra i vari linguaggi a disposizione individuare e selezionare l'italiano in maniera da avere un'interfaccia grafica un po più amichevole perché perché nella nostra lingua. Quindi torniamo sulla schermata di scansione quindi sono prima andato a settings che ora si è tradotto in opzioni perché ho scelto la lingua italiana quindi opzioni o settings se in inglese scelgo italiano poi vado su scansione e ora sono praticamente pronto per far partire la scansione. Ce ne sono di tre tipi differenti la scansione di minacce che è il sistema più efficace, la scansione personalizzata che mi permetterebbe di scegliere che tipo di scansione effettuare per per magari selezionare uno soltanto dei vari hard disk che potrei avere al mio computer o la scansione per veloce. La maggior parte di voi avrà bisogno semplicemente della scansione base quindi lasciando il pallino su questa opzione clicchiamo su scansione e partirà il controllo. Ecco ora questa operazione potrebbe durare parecchie decine di minuti anche ore probabilmente quindi io metterò il video in pausa e lo riattiverò soltanto alla fine di questa procedura per mostrarvi i risultati della scansione che Malwarebytes sta facendo sul nostro computer sicuramente troverà alcune piccole e grandi porcherie da eliminare e quindi poi vedremo come concludere il discorso per ripulire il nostro computer da questi software dannosi o fastidiosi che può aver trovato. Vi ricordo che il software può essere utile proprio per la cancellazione ecco già come vedete mentre vi parlo ha trovato addirittura 11 minacce soltanto nei primi secondi di scansione della macchina potrei anche tra poco andiamo a guardare poi potrei anche andare già a vedere quali sono queste minacce scovate e vi stavo dicendo vi ricordo che può servire anche semplicemente per rimuovere tutti quei banner e finestre pubblicitarie fastidiose che vi impediscono la normale navigazione in internet con i vostri browser internet explorer mozilla chrome e che magari quindi non sono dei veri e propri virus non sono programmi pericolosi ma sicuramente infastidiscono ed impediscono il normale uso del computer quindi prima di mettere in pausa perché poi andremo a vedere il risultato finale quando avrà completato tutta la scansione vado a dare già un'occhiata mentre la scansione continua a quali possono essere le cose che malwarebytes ha trovato ecco per esempio ora ha trovato principalmente la barra di ask che è una cosa che io a dir la verità avevo installato appositamente proprio per fare questo esempio quindi mi ero installato un software dannoso volutamente proprio per poi ripulire grazie a malwarebytes ask è un programma di distribuzione di pubblicità in un certo senso che si spaccia per un motore di ricerca ma in realtà non si può dire che lo sia e che si installa spesso a corredo con altri programmi per esempio anche programmi molto seri come l'ambiente java che praticamente è su tutti i nostri computer hanno durante la fase di installazione l'installazione di questo ask quindi è facilissimo che senza volerlo voi ve lo ritroviate sul vostro computer solo perché siete stati un po distratti durante l'installazione di un altro programma non dannoso ma utilissimo come può essere java per esempio e quindi alla fine della nostra scansione vedremo come malwarebytes andrà a rimuovere tutte queste funzionalità diciamo così tutte queste funzionalità inutili aggiunte dal software ask solo per concludere un po il discorso mentre malwarebytes continua la sua scansione se riaprissi il browser chrome ecco già ci sono all'apertura parecchie indicazioni del fatto che c'è qualcosa che non va e quindi che si è installato qualcosa che non volevo e che il cambiamento della pagina iniziale quello è piuttosto semplice da fare dalle opzioni del browser ma tutti questi altri bottoncini che si sono installati beh speriamo che li possa rimuovere il nostro malwarebytes quindi riprenderemo il video tra un po di minuti quando malwarebytes avrà finito la sua scansione ora lo lasciamo a lavorare a tra poco eccoci di ritorno al termine della scansione che in questo caso è durata se no una decina di minuti perché si trattava di un computer sinceramente appena formattato quindi pressoché vuoto e all'interno del quale avevo soltanto volutamente installato questo ask che quindi è un software potenzialmente indesiderato come appunto ci dice malwarebytes e che quindi volevo poi provare a rimuovere col malwarebytes stesso quindi come vedete ci viene detto che ha trovato 241 elementi minacciosi chiamiamoli così però ecco specifica che non si tratta di malware ma di software potenzialmente indesiderati come vi dicevo prima magari non sono virus non sono software pericolosi ma sicuramente fastidiosi perché mostrano innumerevoli pubblicità durante la nostra navigazione in internet a volte ci impediscono anche di utilizzare il normale motore di ricerca Google perché si sovrappongono adesso e quindi danno le loro risposte con il loro motore di ricerca anziché quelle che magari avremmo preferito di Google stesso ora i 241 elementi credo che siano soltanto di questo software che io appositamente avevo installato mentre sono sicuro che se fate la stessa scansione sui vostri computer troverete molte cose anche che non immaginate di aver senza volerlo installato sul vostro computer e ora procederemo a fare la pulizia come vedete automaticamente ci viene suggerito di spostare tutto in quarantena quindi in una sezione in cui i software dannosi non potranno più dare fastidio possiamo anche andare a vedere un log dettagliato per quelli più curiosi di voi per vedere che cosa effettivamente è stato trovato e possiamo invece come consiglio a quelli meno smaliziati quindi meno esperti di voi di cliccare applicazioni fidandovi del consiglio che il programma stesso vi ha dato quindi senza andare singolarmente a vedere quali software mantenere o quali buttare in quarantena quindi facciamo un bel applicazioni come vedete adesso tutto risulta pulito e quindi non ci resta che andare a vedere se il nostro browser Chrome si è ripulito dalle minacce certo Malwarebytes ora ci dice che per completare questo processo di pulizia avrebbe bisogno di riavviare il computer quindi ora io interromperò di nuovo il video per riprenderlo dopo il riavvio quindi concederò a Malwarebytes di spegnere e riaccendere la mia macchina per completare la pulizia poi andrò a controllare il browser Chrome se si è ripulito da quelle pubblicità installate con questo Ask quindi risponderò di sì ma soltanto dopo aver interrotto il video e che poi riprenderemo immediatamente dopo eccoci tornati dopo il riavvio del computer ora dobbiamo andare ad aprire Chrome per controllare se è stato ripulito lo apro eccolo ecco diciamo che in parte Malwarebytes è riuscito a rimuovere almeno le cose più radicate che riguardavano l'utilizzo del nostro Chrome mentre altre cose sono rimaste ecco qui ci spiega Chrome che un'estensione ha cambiato l'impostazione della pagina di avvio diciamo così e quindi in un certo senso anche Chrome stesso dopo la pulizia effettuata da Malwarebytes comincia ad accorgersi che al suo interno è rimasto qualcosa che non andava ora io potrei già cliccare ripristine impostazione per riportare le cose a posto ma lascerò mantieni le modifiche per poi andare a correggere a mano così vi insegno anche qualcos'altro vi voglio far notare però che Malwarebytes ha rimosso quella barra di strumenti che si era aggiunta qui e che noi assolutamente non volevamo ha rimosso anche una delle due estensioni, delle due iconcine che si erano aggiunte in Chrome mentre ce n'è un'altra che è rimasta non è riuscito a rimuovere invece la pagina iniziale quindi ci sono alcune piccole pulizie che rimangono da fare manualmente anche se il grosso ormai è sradicato è tolto dal nostro computer di questo software indesiderato andiamo quindi nelle impostazioni di Chrome da questo tasto con le lignette andiamo ad impostazioni e ci accorgiamo scorrendo verso il basso che appunto ci sono delle estensioni proprio quelle installate da questo ASC che quindi insomma vi sconsiglio fortemente di installare sul vostro computer perché come vedete si va a radicare un po' dappertutto ci sono delle estensioni da disattivare disattiviamole tutte ecco ecco mi sa che è già stato sufficiente soltanto un primo click in maniera tale che io possa finalmente reimpostare manualmente la pagina di Google come pagina di apertura all'interno del mio Chrome quindi andando su apri una specifica pagina o un insieme di pagine clicco su imposta pagina ecco e in realtà poi come vedete è tornato già da sé impostato su Google quindi ora proverò a dare ok chiudere le impostazioni chiudere Chrome e riaprirlo nella speranza che sia tornato eccolo là con la pagina iniziale di Google quindi prima la pulizia fatta con Mauerbytes quindi poi subito dopo questa piccola pulizia manuale anche se abbiamo notato che riaprendo Chrome dopo la pulizia fatta da Mauerbytes lui stesso in un certo senso ormai ripresosi aveva già consigliato c'era un pulsante che io non ho cliccato di ripristino delle impostazioni perché ho voluto spiegarvi come ripristinarle a mano ma già di lì potevate sistemare tutto rimane questo bottoncino da eliminare vediamo se riusciamo a farlo sempre cliccando sul tasto delle impostazioni e andando a vedere nella finestra estensioni di Chrome che cosa c'è scorrendo verso il basso ecco ci sono ancora alcune estensioni che sono riconducibili ad Aska che andrebbero cestinate quindi rimuovi da Chrome rimuovi e rimuovi da Chrome rimuovi ecco che finalmente adesso il nostro computer è completamente pulito ecco oltre a questa pulizia manuale se non avessimo utilizzato il Mauerbytes che è andato a scovare quei 241 elementi che Aska aveva lasciato in giro per il nostro computer ecco ripulire a mano quei 241 pezzi sarebbe stato sicuramente impossibile spero di avervi insegnato qualcosa di interessante installate questo programma ed utilizzatelo periodicamente una volta al mese una volta ogni 45 giorni per fare una scansione è una pulizia non avete idea di quante cose non pensavate di avere nel vostro computer di quante cose dannose non pensavate di avere che invece avete e che vanno rimosse arrivederci al prossimo filmato non pensavate di avere